Oh, oh, che vengono qua 200 200 200 400 Qualità Ah, io, io sono Pumpa, Pumpa Oro 3 medikit, 4 splash, 6 scudini 6 scudini Scaro, Scarpiola Sparano davanti Qua c'è un Pumpa No Eh, io, c'ho un sacco Eh, no, io, c'ho un sacco Eh, no, io, c'ho un sacco Eh, c'è lì Eh, c'è lì, c'è lì Eh, c'è lì, c'è lì Eh, c'è lì, c'è lì Eh, appunto, c'è lì No, voglio il blu, è liberato Ma stai zitto Ho scherzato Quindi, li busciamo? Sono qua sopra Ha preso il rift Ma dove? No, qua ce ne è uno, ok Ma usiamo per andare, sì Eh, ma prendiamoci Prendiamole basta No, aspettiamo Andrea Eh, prendiamole nel senso Usiamola Sì, ho capito Stanno volando Che vola Quanti chi l'avete voi? Prendi quello, per Andrea Quanti chi l'hai leo? Uno, uno Io, tre E Andrea, due Vero Si, 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 si Andrà Andrà, ci sei te Prendi quello lì Io, per il moving Cosa hai te? Niente Ah, tre bouncer Ok Tre bouncer Quattro 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 Se si ha quattro team, sono tutti team da tre Sono tutti terzetti La si stanno incazzando i bot, quindi significa che c'è stato, c'è qualcuno Cioè, in teoria, sai, secondo la logica di questo gioco Ah, io mi sono boxato, eh Eh, che demo che sai fare? Vabbè, ci stanno stanno per farmi fuori Vai, vabbè Vabbè, mi boxo il dietro, non trovo perché qua, volevo farmo Pissi Ma c'è quella che viene voi No Oh, manca Manca Uncicchino e manca gente la Vediamo Vediamo Quattro 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 Viente l'altra Stai votando non riesco parchi niente andiamo se non siamo in safe può essere la posizione anche quella anche quella lì quella lì siamo ancora più alti gg in pietra io sì sì ce la fermiamo ok vero il telefono pietro giuro che voglio essere fulghi che sono un favore di scecchino Prima sentita la mamma di miei piedi me l'ha passata ma l'ha passata tutta lei è bianco E' bravo chiamale chiamale che almeno Vita il blu? Ma quello lì io si Allo cecchino Ma vado Gli stanno sparando però Da là sparano Ah la 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 Quelli là sono quelli messi peggio ragazzi L'hanno ucciso uno No non è vero Forse hanno l'attratato Ma cazzo sono questi Attento andrà E' lì quello col cecchino Ah vero vero Ah l'ho scritto io Gli scopriano che ha 10 secondi 29 morto quello morto Morto un altro Siamo 3 contro 2 Ah no siamo Siamo 3 contro 1 Dai Michi mi hai mandato A fanculo Siamo 3 contro 1 Vabbè Valla 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 Valla